Un momento importante per una scuola importante per il settore agricolo trentino, per il settore della ricerca, dell'istruzione. San Michele è un fiore all'occhiello dell'istruzione e della formazione della ricerca trentina che riesce a mandare anche fuori dalla nostra provincia un messaggio importante dell'importanza del mondo agricolo. Qui vengono tanti studenti, trentini e non solo trentini e qui riusciamo a fare formazione pratica, proprio quella sul terreno, sul campo e ricerca. Credo che sia uno dei fiore all'occhiello del mondo formativo trentino.